Buongiorno, che figata, bellissimo essere qui e condividere questi piccoli dieci minuti con voi. I miei eventi durano un po' di più, però cercherò di darvi comunque un po' di energia e qualche consapevolezza in più. Siamo in un posto pazzesco, c'è un'energia straordinaria. Fatevi un applauso perché siete un pubblico... Incredibile anche vedere tutti questi ragazzi molto giovani qui. Grazie per iniziare questo vostro percorso, iniziare ad ascoltare queste cose così giovani. E' bellissimo, quindi ringraziate chi vi ha portato qui perché vi ha fatto un dono straordinario. Rifacciamo un applauso a chi ha avuto questa geniale idea. Allora, vi parlerò di ghiaccio e di acqua. Partiamo da questo concetto, che è un concetto molto importante. Io cercherò di trasferirvi qualche consapevolezza sull'amore. L'amore, che bello. Noi viviamo per amare e per ricevere amore, vero? Viviamo per amare e per ricevere amore. E soprattutto ricevere amore è una cosa molto, molto bella, vero? Quando ti fanno una sorpresa, ti danno attenzioni, ti dicono qualcosa di bello, di emozionante, molto bello, fa molto piacere. Solamente, solamente che l'amore a volte, purtroppo, sa essere una cosa così bella, ma anche una cosa un pochino fastidiosa. O meglio, molti credono che l'amore faccia anche soffrire. L'amore è sofferenza. Ho amato tanto, allora ho sofferto tanto. Avete mai sentito una frase del genere? Ho amato tanto quell'uomo, ho amato tanto quella donna, e poi a causa di un suo tradimento ho sofferto tanto. Vi è mai capitato di sentire una cosa del genere? Ci siete? Vi è mai capitato? Vi va di interagire un po' questi dieci minuti? Quindi se vi è capitato alzate la mano. Chi è capitato? Ok, vedete che c'era qualcuno. Ok. Perché chi non ha sofferto in amore? Chi non ha sofferto a causa di una relazione? Ma anche di amicizia, perché l'amore è anche verso i propri familiari, i propri genitori, i propri amici, il datore di lavoro, i collaboratori al lavoro, anche lì c'è amore. Amore è donare qualcosa. Amare, donare. E perché c'è questo bicchiere pieno di ghiaccio? Acqua e ghiaccio. Perché c'è questo bicchiere? Perché questo bicchiere ha tanto da insegnarci. Chi di voi non ha mai bevuto un bicchiere con dell'acqua e del ghiaccio? Tutti l'abbiamo bevuto. Cosa accade quando mettiamo un po' di ghiaccio all'interno di un bicchiere pieno d'acqua? Si scioglie. Perfetto. E che cosa accade? Il ghiaccio fredda l'acqua, giusto? Perché l'acqua diventa più fredda, vero? No. No, come Daniele? È vero. Il ghiaccio si scioglie e l'acqua diventa più fredda. Verissimo. Questo è quello che crediamo superficialmente, ma profondamente, e ce lo dice la legge di entropia, non lo dice di certo Daniele Di Benedetti, non è il ghiaccio a donare il freddo all'acqua più calda, ma accade l'esatto contrario. Mi seguite? Cioè, è il caldo che risiede nell'acqua a donare quel poco calore che ha al ghiaccio molto freddo. Questo processo scalderà il ghiaccio e di conseguenza nell'arco di qualche minuto, a volte di ore, dipende dalla quantità del ghiaccio, si creerà un equilibrio tra il ghiaccio che si sarà sciolto e l'acqua che prima era più calda. Che cosa ci insegna questo discorso? Che cosa ci insegna questa legge pazzesca? Già sono passati tre minuti. Cosa ci insegna questa legge pazzesca? Ci insegna che se non è qualcosa da donare, se sei freddo, se non hai amore dentro di te, non potrai donarlo agli altri. Se sei un cubetto di ghiaccio e vivi come un cubetto di ghiaccio, non potrai donare qualcosa a qualcuno. Se invece sei caldo come l'acqua, allora avrai qualcosa da donare, ma donare incondizionatamente, senza aspettarti nulla in cambio. Questo è il vero amore. Condividete con me? E condividete con me che è molto difficile vivere questa tipologia di amore? Molto difficile. Perché? Perché non abbiamo fatto un lavoro profondo su noi stessi? Per lavoro profondo su noi stessi intendo questa cosa. Questo qui è un quadro di Magritte, molto bello, L'impero delle luci. Vi consiglio di guardare i quadri di Magritte perché è stato un pittore illuminato e straordinario, come Gli Amanti. Ci sono dei quadri che più li guardi e più generano in te nuove consapevolezze. In questo quadro vediamo una cosa straordinaria. questo pittore un po' pazzo a mio avviso ha dipinto una scena di notte perché la casa è di notte, è illuminata, c'è anche un lampione acceso, quindi una classica scena notturna con un cielo che è un cielo del giorno. È un cielo che possiamo vedere adesso uscendo qui fuori. Quindi, probabilmente, e i critici d'arte ovviamente odiano quello che sto per fare, però a me piace generare consapevolezze che sono utili alla mia vita attraverso anche l'arte perché ti permette di avere delle intuizioni e quindi di creare qualcosa di tuo che poi può donare a chi? In questo momento a voi. Amore incondizionato, vi sto donando qualcosa, una mia consapevolezza, una mia intuizione. Cosa ho intuito guardando questo quadro bellissimo? Un'altra legge che non l'ho intuita io, è una legge che esiste che si chiama legge di polarità che è il primo passo per amare incondizionatamente, ovvero accogliere tutto ciò che c'è. In questo quadro nella stessa immagine, nello stesso esatto momento c'è il giorno e c'è la notte. Quanti conoscono il simbolo del Tao? Dove c'è il bianco da una parte, il nero dall'altra che si abbracciano e nel bianco c'è un punto di nero, nel nero c'è un punto di bianco. Quel simbolo è un simbolo pazzesco, di grande risveglio, di grande ispirazione. C'è il caldo e c'è il freddo come abbiamo visto, c'è l'inverno e c'è l'estate. C'è una persona alta, c'è una persona bassa, c'è una persona buona e c'è una persona cattiva. E chi ha creato tutto questo? Tu puoi credere in Dio, puoi credere in Buddha, puoi credere nell'universo, in un'energia superiore, credi in quello che vuoi. Adesso non è questo importante. Ciò che conta è che chi ha creato tutto questo universo straordinario, questo insieme di atomi, lo chiamerebbe Richard Feynman, fisico premio Nobel che ci ha ispirato tantissimo attraverso le sue consapevolezze, chi ha creato tutto questo? Non l'ha creato a caso così. Se c'è questa contrapposizione e c'è insieme il bianco e il nero è perché deve esistere. Quindi amare, tornare ad amare prima di tutto noi stessi e amare di conseguenza la vita, nella sua interezza, nella sua totalità, significa amare tutto. Tutto davvero. Che cosa intendo per tutto davvero? A quanti di voi hanno rubato dentro il proprio appartamento? O a quanti di voi hanno magari rubato la macchina, il motorino, insomma, più o meno nella vita tanti di noi hanno incontrato nel loro percorso persone che le hanno derubate. Può capitare, è vero, magari avete degli amici che sono stati derubati. La cosa che vi sto per dire ora è molto forte. Sedetevi bene? Attenti a non svenire. È molto forte, ma di grande ispirazione. se vogliamo vederla con gli occhi di persone un pochino più risvegliate, con gli occhi di una persona che ha capito profondamente che il tutto è giusto che esista. È giusto che esista. Un ladro che viene a rubare dentro casa sicuramente ti fa dei danni, sicuramente ti toglie le cose preziose. A me hanno rubato quando ero ragazzino, sono entrati in casa dei miei, ci hanno tolto tutto. Sai, anche i gioielli della comunione, il battesimo, quelle cose che ti rimangono magari per una vita, che ti hanno regalato persone che ami? Sparito, tutto quanto. E ovviamente non avendo queste consapevolezze cosa fai? Giudichi. C'è il giudizio, c'è l'accusa, c'è il rancore, c'è la rabbia, c'è l'odio anche a volte. Però in quel momento non sto accogliendo il tutto. Certo, non è che devo farmi venire a rubare a casa e lasciare le porte aperte. Vai, venite, perché ti benedetto e ha detto che dobbiamo accogliere il tutto. Ovviamente non dobbiamo vivere così. Ma quando capita qualcosa che non è proprio in linea con ciò che per noi è giusto, dobbiamo ricordarci, vedendo le cose in modo un pochino più profondo, che il ladro che sta venendo a rubare dentro casa, Ermete, diceva, come in alto così in basso, Gesù, come in cielo così in terra. Un ladro che sta facendo un'azione agli occhi di molti negativa, brutta, per cui potrebbe anche essere arrestato, dovrebbe essere arrestato per la legge, in realtà se la vediamo con occhi più profondi, come in alto così in basso, come in cielo così in terra, portando queste qualità basse di una persona che sta rubando, sta facendo qualcosa di brutto per la società, in alto, beh, innanzitutto noi a detta di Buddha stiamo lavorando su una delle cose più importanti su cui possiamo lavorare nella nostra vita e che è la causa di sofferenza numero uno, l'attaccamento alle cose, l'attaccamento agli oggetti, l'attaccamento alla reputazione, l'attaccamento alle persone. Il ladro che sta facendo una cosa brutta per te, ti sta privando dei tuoi oggetti, ti sta aiutando a lavorare su una cosa profondissima. Condividete, mi seguite? Certo, non vado lì a ringraziarlo, assolutamente, vi racconterei altre storie ma adesso non ho tempo, non vado lì a ringraziarlo, ma sicuramente posso fare un lavoro su di me, anche grazie a quel ladro che mi ha rubato dentro casa. Allora sto evolvendo come persona, sto diventando una persona migliore e sto accogliendo tutto ciò che c'è. Anche perché se giudico quella persona per la legge dello specchio, un'altra legge pazzesca, e questa legge ci dà delle sportellate forti, c'è una consapevolezza molto potente, perché quando odi qualcosa profondamente di qualcuno, ricordati, e non lo dico io, lo dice la legge dello specchio, che se odi qualcosa di qualcuno, significa che in te, in te, c'è qualcosa che rivedi in quella persona e allora lo odi, e allora gli dai addosso, allora lo giudichi. Prova a immaginare, tu sei davanti allo specchio in bagno, ti specchi e vedi un brufolo, hai un brufolo così in fronte, sbam, cosa fai? Lo schiacci sullo specchio o lo schiacci su di te? Cosa fai? Lo schiacci sullo specchio? Dici, ma non si schiaccia su sto specchio, non capisco, inizia a dare testate allo specchio? No, cosa fai? Lo schiacci su di te. Quindi quando vedo qualcosa che non va in qualcun altro, devo sempre ricordarmi, ma forse c'è qualcosa in me che mi fa sentire questo fastidio? Quando ti sorpassa uno, tu sei in fila alle poste da un'ora, hai fatto un'ora di fila, arriva uno e ti passa avanti. Cosa ti dà fastidio? Che sei lì da un'ora da aspettare e quello ti passa avanti se profondamente avresti voluto essere furbo come quella persona? Forse sono cose su cui riflettere ogni tanto. Anche perché se giudichiamo e creiamo odio, rabbia, rancore verso le cose che non ci piacciono della vita, non accogliendo il tutto, non amando la vita profondamente, lo dice un'altra legge, che è la legge di conservazione della massa, che nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si trasforma. Quindi noi, quella cosa che non ci piace, dobbiamo prenderla e trasformarla in qualcosa di buono, come il ladro che viene a rubarci dentro casa, perché se prendete un foglio e gli date fuoco, non lo potete distruggere, diventerà qualcos'altro. Tutto può diventare qualcos'altro, ma nulla si può distruggere. Hai una paura? Hai un'insicurezza? Non potrai mai cancellarla, mai, ogni volta che devo salire qui sopra me la faccio sotto. Non posso cancellare quella paura, ma posso trasformare l'energia in amore verso di voi. Questo dobbiamo imparare a fare facendo questi passi evolutivi importanti. Anche perché se iniziamo a vibrare energie diverse, ce lo insegna il diapason, tenderemo ad attrarre per la legge d'altrazione, un'altra legge pazzesca, energie simili a quella che stiamo emanando. Quindi se tu sei in un'energia dove vibri odio, vibri rancore verso qualcosa che ti è capitato di ingiusto, e mi dispiace, anche a me sono capitate situazioni e storie molto difficili nella mia vita che mi hanno portato poi a fare quello che faccio. Oggi non avevamo tempo, ovviamente. ho imparato ad accettarle, quando ho imparato ad accettarle ho dato nuovi significati, questo significato è diventata energia, energia positiva che mi ha permesso di attrarre persone migliori intorno a me, che mi ha permesso di aiutare i miei familiari, le persone che amo, semplicemente attraverso il mio esempio, senza dire nulla, semplicemente attraverso il mio esempio, diventando congruente con ciò che credevo profondamente. E poi per concludere, non abbiate paura di donare il vostro amore, perché quando lavori su di te, quando inizi a generare queste consapevolezze, ricordati che sei come una candela. Una candela, quando accende un'altra candela, aiuta un'altra candela a fiorire, ad illuminarsi, non perde la sua luce. Certo, possiamo andare su una candela e soffiarci, e spegnerla, ed è la morte, e non possiamo scappare, mi dispiace, possiamo fare tutti gli scongiuri che vogliamo, ma tutti avremo quel destino. Però possiamo arrivare a quel destino che abbiamo tutti in comune da persone più risvegliate, da persone più amorevoli, da persone che abbracciano la vita nella sua totalità, da persone che sanno essere grate totalmente di tutto ciò che gli capita, di persone che sono un esempio per gli altri, oppure di persone che sono parte del problema. E viviamo un periodo, un periodo storico, molto critico. I giovani che sono seduti lì, il loro futuro sarà un futuro particolare, sarà un futuro di grandi cambiamenti, dove tanti lavori che i loro genitori fanno non ci saranno più quando loro saranno grandi, e si troveranno in difficoltà. Il mondo sta cambiando, sta cambiando in modo radicale. Ce ne siamo accorti? Poi quando capitano queste cose come l'incendio in Amazzonia, tutti a parlare dell'incendio in Amazzonia, ma dobbiamo iniziare ad amare di più noi stessi per amare il mondo, per fare la raccolta differenziata, per non sporcare, per rispettare la natura. Condividete? Quindi iniziamo ad amare noi stessi, accogliendo tutto ciò che c'è e facendo chiudo con questo, con questo quadro di Chagall che si chiama La Passeggiata, vi consiglio di guardare questo quadro in un momento in cui siete rilassati e di guardarlo attentamente, perché in questo quadro c'è tanto significato. Questo quadro secondo me è l'amore incondizionato, una persona che dona senza nemmeno guardare la sua donna e come vedete ha un uccello in una mano e nell'altra mano non la regge come per tenerla, ma è una mano appoggiata come per lasciarla andare. E non si vede nemmeno l'altra donna a chi sta dando amore perché a volte tu doni amore ad una persona e quella persona non ti darà l'amore indietro, non ti darà il suo amore in cambio. Però la vita, l'universo, Dio, Buddha, mettici quello che più ti piace, te lo farà tornare prima o poi. Grazie. 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 Grazie.